forza forza aspetta aspetta potete provare guardia 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 pronti bravo video vuoi chiedere tutti no per la prossima cosa bravo 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 attacca per un video pronti oi uguale testa in entro non c'è il tempo dell'attacco sulla preparazione a voi a voi guardia guardia pronti a voi guardia pronti a voi attacco attacco sul ferro e risposta stop attacco parato risposta guardia guardia attacco è parato non c'è risposta non c'è risposta non c'è risposta in guardia in guardia pronti a voi attacco attacco no 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 grazie in guardia pronti a voi attacco 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 Pronti? A voi! In guardia! Pronti? A voi! In guardia! Pronti? A voi! Opa! Pronti? Pronti! Yeah! Sì, non c'è sempre tempo. Sai che, a parte di fatti mio, lui ha uno straccio, però non c'è anche un attacco da un garazzo. Non è fatto un bambam. No, no, no. Ma allora c'è un attacco con il netto. Non c'è un po' di fatti. E' un attacco con il netto. E' un attacco con il netto. E' un attacco con il netto. In guardia. Pronti a voi. Pronti. A voi. A voi. A voi. A voi. Guardia. A voi. 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 Guardia! Pronti a voi! Forza! Forza! Forza che ci siamo! Forza! In guardia! Da sopra! Pronti a voi! Olè! In guardia! Pronti a voi! Forza! In guardia! Pronti! Forza! 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 Pronto! 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 Pronto ioandra. Sc那个 people! Pronto! 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 Pronto Não voula Entonces Grazie a tutti. In guardia. Pronti a voi. 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 Pronti a voi.